La scrittrice del mistero, di Alice Basso, pubblicato da Garzanti Libri. Libri, indagini, amore e una protagonista che è un'amica un po' strana, unica e indimenticabile. Storie gialle a base di citazioni letterarie e battute al fulmicotone che creano dipendenza. Una voce che gira riguardo alla carta è che sia sincera. Verba volant, scripta manent. Dovrei parteggiare per questa visione. In fondo io scrivo per mestiere. Peccato che io di mestiere faccia la scrittrice, sì, ma fantasma, la ghostwriter. Una che scrive per conto terzi, ossia una che scrive saggi su opinioni che non pensa, autobiografie di vite che non ha vissuto, manuali di discipline che non ha praticato, su cui poi mette il nome qualcuno che non ne è l'autore. Come faccio? Per un ghostwriter degno di questo nome, le persone sono libri aperti. Come i libri, si possono leggere e anche copiare. Tanto per cominciare, ogni essere umano è affezionato a un suo lessico, una combinazione di innumerevoli geni espressivi che alla fine produce il DNA inconfondibile della voce di una persona. Che figata viene da dire. Non è una figata. Non che faccia molto per dissimularlo, peraltro. Il fatto che vada abitualmente in giro, con impermeabile nero, rossetto viola, ciuffo sugli occhi, è un po' la mia dichiarazione di guerra perenne al mondo. Piacere alla gente non è esattamente il mio forte. D'altra parte, nemmeno il forte della gente sembra essere piacere a me. Poi qualche mese fa un commissario di polizia si è accorto che fra una ghostwriter e una profiler ci sono solo poche sillabe di differenza. Io, che non mi diverto mai, grazie alla collaborazione col commissario Berganza, forse, forse, sto facendo un poco pace con la mia mezza dote mezza maledizione. Tutto questo per dire che, se c'è qualcuno al mondo che sa quanto diavolo possa essere falsa la carta, quella sono io. Avete ascoltato un brano tratto dal libro La scrittrice del mistero, di Alice Basso, pubblicato da Garzanti Libri.